Al via la demolizione per l'ex Caravelle di Cossato. Si parte da inizio febbraio. Nell'arco di alcuni mesi sorgerà al suo posto un centro commerciale capitanato dal Lidl. Si sono verificati una serie di rallentamenti, così ha affermato il sindaco di Cossato Enrico Moggio. Uno su tutti, purtroppo, la prematura scomparsa del progettista. Da quel momento chi lo ha succeduto ha dovuto riprendere in mano il tutto. Ora, però, si parte con la demolizione dello stabile, ormai faticente, che appartiene ai ricordi di molte generazioni di biellesi. Oltre al trasferimento del supermercato Lidl, ci saranno altri due occupanti della superficie commerciale? Ci sarà anche un ristorante? In un primo tempo si era parlato addirittura di McDonald's. Al momento non sono state presentate richieste per il rilascio di ricenze in comune. Così ha risposto Enrico Moggio. Sappiamo solitamente che in questi centri ci sono un paio di partner che affiancano l'apertura, ma al momento non è stata presentata nessuna richiesta. L'unica certezza, quindi, per ora è che Lidl si trasferirà e che nel nuovo spazio, che dovrebbe essere ormai realizzato in tempi brevi, vi saranno tre plessi da dedicare al commercio. Ma non c'è dato sapere di chi si tratterà.